Buone notizie in casa Ferragni, la mamma della fashion blogger più famosa al mondo, la scrittrice cremonese Marina Di Guardo, ha infatti annunciato sui suoi canali social una bella novità che la riguarda da vicino. È infatti in promozione in questo periodo il suo ultimo romanzo, La memoria dei corpi, di cui stiamo vedendo il book trailer, e un'importante casa di produzione cinematografica americana, per ora tenuta segreta, ha opzionato i diritti del suo libro. Questo significa che dal romanzo sarà presto tratto un film. Ecco il video dell'annuncio. Ciao amici, con molta emozione volevo darvi questa bellissima notizia. Un'importante casa di produzione cinematografica statunitense ha opzionato i diritti del mio La memoria dei corpi. Spero di vederlo tra poco al cinema con voi. Grazie, un abbraccio. La memoria dei corpi racconta la storia di Giorgio Saveri, quarantenne che vive sui colli piacentini e che instaurano la relazione pericolosa con la bella Giulia, attorno a cui gira un mondo di bugie. E chissà che il set del film tratto dal romanzo di Marina Di Guardo non si svolga proprio vicino al nostro territorio.